Pronto intervento nella serata di venerdì scorso da parte del gruppo comunale della protezione civile della città di Agropoli. I volontari hanno soccorso una famiglia di disabili in Viale Lombardia ad Agropoli. A causa della forte pioggia delle ore 22 dello scorso venerdì notte, l'appartamento situato al piano terra si è completamente allagato. I ragazzi del gruppo di protezione civile hanno assistito le due anziane persone fino a tardasera liberando l'appartamento dall'acqua. Altro intervento che ha visto la presenza dei volontari del gruppo comunale di protezione civile della città di Agropoli è stato presso il piazzale antistante lo stadio Raffaele Guariglia, completamente allagato. In questo caso è stato necessario utilizzare una motopompa per far scendere il livello dell'acqua. Anche qui le operazioni sono durate diverso tempo. Disagi si sono registrati anche in località San Marco, in via Risorgimento, nei pressi del parcheggio del fiume Testene. Alla prima pioggia abbondante i residenti del posto hanno dovuto fare i conti con il puntuale allagamento dei garage. Per far scendere il livello dell'acqua anche qui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale di staccamento agropolese che con una motopompa hanno abbassato il livello accumulato che impediva il passaggio. È da tempo che attendiamo l'intervento del comune per la pulizia delle canaline di scolo. Fino ad oggi nessuno è venuto a fare manutenzione. È normale che con l'arrivo delle prime piogge abbondanti poi ci sia questo risultato e a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini che tra l'altro pagano le tasse e lo sfogo di un residente s'ha sperato dalla situazione che puntualmente ogni anno si presenta. Abbiamo fatto la conta dei danni e sono numerosi. Anche negli appartamenti al pian terreno diversi mobili si sono impregnati di acqua e sono ormai da buttare. Questa mattina i cittadini di via Risorgimento si sono recati al comune presso l'ufficio manutenzione per spiegare la problematica e capire se saranno previsti interventi mirati a risolverla.